Per la sostenibilità, la tutela dell'ecosistema marino e delle coste, occorre lo studio, occorre l'incontro con gli operatori economici e questo è già l'impegno primo di Parco Dune Costiere che ha avuto un'importante realizzazione con il progetto Ideal, il quale attraverso il monitoraggio sul campo, interviste sul campo, ha potuto conoscere lo stato dell'arte sulla nostra costa e elaborato indicazioni su strumenti, azioni, norme che possono mitigare l'impatto devastante del cambiamento climatico e mantenere i livelli di sostenibilità sia della natura che delle attività economiche, di pesca e del turismo.